Biciclub Radio Nostalgia 2005-2015 siamo con uno dei protagonisti di Radio Nostalgia, Luca Pedonese Buonasera a tutti Ma innanzitutto come stai? Ma benissimo, benissimo, siamo pronti, tra poco si inizia, arriverà gente, quindi via con questi dieci anni di Radio Nostalgia Dieci anni di Radio Nostalgia, tu da quanti anni è che sei? Io dall'inizio, proprio dal primo anno, anzi ero già presente quando il progetto non era ancora iniziato Quindi sei uno dei capi saldi Esatto, i veterani, via Allora, la musica che passa Luca Pedonese, per i pochi che non sanno, quale musica preferisci suonare? Tutto ciò che non è dance, quindi anti-Versilia siamo noi, rock'n'roll, rhythm and blues, soul, reggae, ska E come stasera, quindi? Stasera saremo un pochino più tranquilli rispetto al solito, però andremo sul rock'n'roll Secondo te il successo di Radio Nostalgia, che ormai ha varcato ovviamente la Toscana, Piemonte, Sardegna, Ligone Insomma, siamo praticamente, siamo, io dico siamo, in metà praticamente Italia Questo successo, gli ingredienti secondo te? Gli ingredienti secondo me sono la musica principalmente, perché è quello su cui puntiamo Però anche i DJ sono ottimi? Sì, però crediamo che chi ascolta la radio voglia ascoltare buona musica E questo è quello che cerchiamo di fare noi ogni giorno con le nostre playlist e quello che proponiamo di volta in volta E allora ti auguriamo innanzitutto una buona serata e tanta buona musica Luca, speriamo di vederci tra dieci anni commentando un ventennale Un ventennio di Radio Nostalgia Di una nostalgia, e cosa dire? Io ringrazio voi, viva Radio Nostalgia E speriamo di accendere poi nelle altre regioni in cui attualmente manchiamo Sicuramente sì, a presto A presto, ciao a tutti